Nella puntata di oggi di Nanodatv inizia il concorso di Pogno sulla scogliera e inoltre il concorso di Nanodat per vincere i nuovi segnalibri seguiteci su Nanodatv Ciao sono Ricci, ciao sono Yuki per Nanodatv.com Allora partiamo subito col concorso di Pogno sulla scogliera la prima cosa importante è essere andati a vedere la prima ieri e se non siete andati correte subito a farlo perché certamente il film è bellissimo ma è indispensabile averlo visto per poter partecipare al concorso non vi aiuterà aver visto la versione originale perché le domande del concorso sono esattamente pensate per la versione italiana e pensate che nemmeno noi sappiamo la risposta a queste domande parteciperemo anche noi infatti si è vero le ha scritte il nostro amico Gualtiero Cannarsi e ci darà le risposte solo alla fine Allora come funziona? Si tratta di mandare un'email a poniochiocciolananodatv.com con tutte le risposte alle domande che sono state inserite nel regolamento del concorso le troverete nel post successivo qua sotto o qua sopra dipende Ok, allora quindi ogni risposta corretta varrà due punti ogni risposta sbagliata ve ne toglie uno e se lasciate una risposta in bianco vale zero Perché c'è questa graduatoria? Perché si può scegliere il premio, non ci sono premi preassegnanti Esatto, vogliamo dire quali sono? Allora ci sono due libri editi da Mondadori di ponio e le locandine originali del film alcune sono vuote cioè senza firma alcune sono firmate dai doppiatori dei due bambini e dalla cantante della sigla Ok, quindi sono premi esclusivi, non li potete comprare da nessuna parte E se c'è una grande affluenza di persone che partecipa i premi possono aumentare ce ne saranno altri Quindi intanto ringraziamo sicuramente Lucky Red e ovviamente Gualtiero Cannassi che ci ha dato questa possibilità Va bene, d'accordo, allora adesso passiamo ad un altro concorso Sì, sono arrivati i segnalibri nuovi di Nanodà, vuoi far vedere? Sì, come abbiamo anticipato, ecco i nuovi segnalibri di Nanodà Questi segnalibri di Nanodà stavolta sono a una faccia unica Sono più grandi, più resistenti, hai morsi di gatto ma i miei li mangiano comunque E questi sono le tre nuove versioni Ok, che ricordano un po' lo sfondo che abbiamo in alto Volevo dire a Cipre che ci sta sicuramente seguendo che i segnalibri non te li ho ancora spediti Questo perché volevo fare in modo di spedirti anche questi qui che sono nuovi Così ti puoi vantare con gli altri che tu hai i segnalibri ancora prima di Milano Ok, ricordatevi che chi verrà infatti a Milano ha il Cartoon Mix con noi Oltre ad essere intervistato dalla Nanodà Camera qui Esatto, preparatevi Sì, avrà anche i segnalibri in omaggio Quindi insomma venite a trovarci e a vederci Faremo anche un annuncio insieme a Star Comics e Star Shop Quindi è alle 2 nella sala Capitan Arlock il sabato 28 Venite a sentire che cosa abbiamo da dire Cosa vuoi da dire perché sarà lui che parla Eh vabbè qualcuno deve pur farlo Va bene, silenzio silenzio che ascoltiamo Bisogna indovinare la sinistra Basta, 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 fine Questa volta era più facile E se indovinate vincete i segnalibri di Nanodà Ovviamente è solo il primo che ce l'ha fatta D'accordo, siamo un po' di fretta questa settimana È tutto, sapete che la settimana prossima Non saremo qui su Nanodà TV Perché siamo al Cartoon Mix A Milano Beh ci vedete di persona, dai Esatto, meglio di così Eh, che sfiga D'accordo, alla prossima Ciao Non l'avevamo detto Ci colleghiamo Ma dove? E i neuroni, ci colleghiamo in Europa